La seconda stagione di Tentation Island VIP sta per approdare su Canale 5 per far compagnia a milioni di spettatori che attendono con impaziente la versione VIP del reality show delle tentazioni che lo scorso hanno incassato un ampissimo consenso. Le coppie sono già partite alla volta della Sardegna e hanno anche iniziato le registrazioni della loro esperienza televisiva in cui stanno mettendo in gioco i loro legami che possono rafforzarsi o peggio sgretolarsi. Quelli più convinti del primo risultato alla partenza sono apparsi Damiano Coccia, detto Erfaina, e Sharon Macri che nella loro clip di presentazione hanno asserito che quando un sentimento è vero non c'è nulla che possa scalfirlo. Peccato che le ultime parole del ragazzo gli si stiano velocemente ritorcendo contro. I canali social del programma hanno condiviso il primo spoiler di stagione che riguarda proprio Erfaina. Lo youtuber romano contrariamente alle sue aspettative si è ben presto trovato ad essere chiamato nel pinnetto per assistere a un video che riguarda la sua fidanzata che è al suo fianco da marzo. Non conosciamo ovviamente il contenuto del filmato che è stato mostrato a Damiano ma ciò che è palese è la reazione sconvolta e adirata del ragazzo. Non immaginava probabilmente di ritrovarsi in questa situazione e che la sua esperienza televisiva sarebbe stata connotata dalla tranquillità. O un avvicinamento a qualche single o qualche critica rivortagli dalla donna lo ha deluso tanto da affermare ai suoi compagni di avventura di essere giunto al limite. Che cazzo fa? C'è un limite? Superato quello hai rotto il? Il mio limite? Non lo conosco. Cosa avrà visto da spingerlo ad avere questa reazione? Che la sua storia d'amore sia già a rischio? Voi cosa ne pensate? Scrivetemelo giù nei commenti!